Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio e di prevenzione ai reati connessi all'utilizzo di armi, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Petilia Policastro e quelli della stazione di Mesoraca hanno effettuato una perquisizione all'interno di un edificio in fase di costruzione ubicato nella frazione Pagliarelle di Petilia Policastro, rinvenendo e sequestrando due fucili mitragliatori, rispettivamente una K47 meglio noto come Kalashnikov ed un M56, fucili di precisione, un fucile a pompa privo di matricola, 170 cartucce di vari calibri, due kit per la pulizia delle armi. La perquisizione aveva avuto origine dal rinvenimento avvenuto alcuni giorni fa di qualche centinaio di metri dal citato stabile di alcuni bossoli di cartucce di vario calibro da parte dei militari di quello stesso comando. Le indagini proseguono al fine di accertare la riconducibilità di quanto in sequestro, atteso che il luogo dove le armi erano occultate era liberamente accessibile, pertanto è stato richiesto alla Procura della Repubblica di Crotone di voler autorizzare l'esecuzione di accertamenti tecnico-scientifici sulle armi e sulle munizioni.